La pace di Manuela Di Dalmazzi Metti un aereo, metti che tu viaggi in prima classe, metti che io viaggio in seconda classe, metti che l'altro viaggia nella stiva, metti che l'aereo precipita. Ma il comandante? Nascosto a guidare, nascosto a decidere, per confondere, per sprofondare nell'abisso dell'umano non senso. Come bovini acefali, inneggianti al benfatto, glorificanti il giusto pensiero, adoranti l'icona comandante che, alla moda di Amelin, ci porta sull'orizzonte degli eventi. Allora precipiteremo tutti nell'abisso nero e putrido dell'angelo maledetto, felici e gaudenti nella guerra giusta. Ma siamo interdipendenti, siamo umani continenti, siamo isole mancanti. Solo l'amore condivide, unisce, nutre, prospera, perdona e pacifica. Grazie a tutti.